Ciao, mi chiamo Leila e gestisco la libreria nel Castello di Carta, nella quale Patrizia ormai da un anno fa tutte le serate. Grazie a questo percorso ho già cambiato molte cose della mia vita e le ho anche migliorate, quindi ringrazio veramente Patrizia e tutte le tecniche, tutto quello che ci ha portato e ha portato alla libreria e ha portato anche a me. Grazie mille. Grazie a tutti.